Monchiero Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge in vernizi numero 8, contrario al Governo, votazione aperta La Camera respinge in vernizi numero 8, contrario al Governo, votazione aperta La Camera respinge in vernizi numero 8, contrario al Governo, votazione aperta La Camera respinge Carrescia, c'era il parere contrario, invito a ritiro, prego Presidente, è ritirato Presidente Lo ritira? Perfetto Quavello, c'era un parere favorevole con riformulazione, è accettata, ok Cani 11 è ritirato, Ochiude è favorevole, Giulietta è favorevole, Pilozzi è favorevole E quindi abbiamo così terminato gli ordini del giorno E come da intese intercorse Lo svolgimento e dichiarazione di voto E il voto finale è rinviato alla seduta di domani a partire dalle ore 10 Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno nella seduta di domani L'assegnazione in sede legislativa delle seguenti proposte di legge Delle quali la sottoindicata commissione, cui erano state assegnate in sede referente Ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento in sede legislativa Che proporrò alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento Colleghi, per favore Alla tredicesima commissione agricoltura Lupo ed altri, disposizione per la promozione della coltivazione della filiera agroindustriale della canapa Zaccagnini, disposizione per la promozione della coltivazione della cannabis Sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori Opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattica e ricerca Oliverio ed altri, norme